Grazie a tutti. Buongiorno a tutti, benvenuti a questa edizia speciale. Abbiamo avuto un po' di giorni tormentati e oggi mi sembra giusto chiarire ai nostri telespettatori, che poi alla fine siete voi la nostra linfa, e spiegare un po' quello che è successo in questi giorni. Come ben sapete, Romi TV è un'associazione culturale da ben oltre otto anni. E vorrei dire che quando io parlo e faccio certe affermazioni, sicuramente lo faccio con dei dati, non è che io invento delle cose. Questa mattina mi ha fatto molta tristezza leggere su Facebook qualche esponente anche politico dire che Romi TV campa con i soldi dello Stato rumeno. Vorrei dire che comunque sono tutte bugie perché Romi TV in tutti questi anni non ha preso mai un euro, ma lo dico non perché voglio farmi pubblicità, perché purtroppo, dico purtroppo, è la verità. Perché sicuramente se avessimo avuto dei soldi, dei finanziamenti avremmo potuto fare qualcosa di più, avremmo potuto coprire più regioni, avremmo potuto fare più programmi. Tutte le persone che sono presenti qui nella struttura di Romi TV, l'avvocato Germani, Eviana, Julian, Roberto, io voglio ringraziare anche oggi l'amico Alessandro Pinato che mi sta curando la diretta su Facebook. Quindi voglio dire che siamo un team di persone che ha sposato questa causa di Romi TV e la stiamo portando avanti da ormai otto anni. Abbiamo avuto tanti problemi, li tuttora li abbiamo ad oggi, però vogliamo anche ricordarvi che con estrema franchezza noi siamo una televisione regolare, siamo una televisione dichiarata, siamo una televisione con una regolare licenza, siamo riconosciuti dallo Stato italiano, paghiamo regolarmente le tasse che vengono pagate ogni anno per chi detiene una licenza, cosa che qualcuno per quattro anni come Dacia TV non ha fatto. Dacia TV è stata una televisione, lo posso tranquillamente dire, una televisione abusiva nel vero senso della parola, che poi il loro rappresentante dica che ci sia stato un errore della televisione che le ripeteva in Italia, posso tranquillamente dire che è una bugia, una menzogna. Dacia TV è stata disattivata su una ordinanza del Ministero del Mise, del Ministero dello Sviluppo Economico Italiano, in quanto la televisione era abusiva, non aveva alcun tipo di autorizzazione, per quattro anni ha trasmesso e qui entriamo un po' nella polemica che abbiamo fatto noi ieri. Ha trasmesso con il parere favorevole, con la pacca sulla spalla del governo rumeno, che comunque ha permesso a questa emittente di trasmettere e tra parentesi essere ospitata nei palazzi del governo rumeno. Lo stesso Ministro Intontero, Ministro a cui noi abbiamo denunciato questa cosa, Ministro a cui noi abbiamo detto, Ministro attenzione questa è una televisione abusiva, è stata ospite di questa televisione, è stata ospite a Dacia TV, lei con tutto il scodazzo di persone che il direttore, presentatore, il tuttofare di questa televisione ha fatto in questi quattro anni indisturbato. Io voglio ringraziare oggi anche Rares Bogdan di Realità, del quale ieri sera io gli ho scritto un messaggio dicendo Rares io sono veramente sconvolto di quello che sta succedendo e noi vogliamo fermarci, vogliamo fermarci in segno di protesta, perché comunque ci rendiamo conto che in otto anni nessuna istituzione rumena, ma dico anche il Ministero se esiste della carta igienica, non ci ha mai riconosciuto, ma riconoscere non vuol dire, attenzione, riconoscere non vuol dire darci dei soldi, riconoscere vuol dire comunque che se io scrivo, chiedo un'informazione, ho una risposta. Io vorrei leggere oggi perché poi qualcuno mi dice che io faccio polemica, io vi voglio leggere brevemente, parliamo del 26 settembre del 2017, quindi parliamo di un anno fa, quando io praticamente feci una richiesta all'Istituto Culturale Rumeno in Italia, dove chiesi praticamente la possibilità di potermi incontrare con loro perché avevamo in Italia il maestro Gheorghe Zanfir e avremmo voluto fare una conferenza all'interno della loro struttura. La loro risposta fu questa qua, ve la leggo perché comunque è stata regolarmente protocollata e spedita. Dice Greggio, dottor Latagliate, in merito alla sua interessante proposta di collaborazione, siamo spiacenti di comunicargli che l'Istituto Rumeno di Cultura e Ricerca Umanistica ha già definito da tempo il programma di promozione culturale per l'interno anno in corso, blending che conta un numero rilevante di eventi con l'intento di promuovere e valorizzare la cultura rumena sotto ogni aspetto. Quindi, purtroppo, ci risulta impossibile accogliere nuove iniziative culturali in quanto il nostro programma è ricco di eventi per i restanti mesi del 2017. Parliamo del 2017, attenzione. L'anno successivo, cioè quest'anno, il 2018, si svolgerà una nutrita serie di eventi e manifestazioni all'insegna del centenario della Grande Guerra e del compimento della Nazione dello Stato Rumeno avvenuto guardando l'unità del 1918. E quindi diciamo che anche il 2018 sono pieni. Attenzione, nel 2019 ci sarà il centenario della Conferenza di Pace di Parigi in grado di... un momento fondamentale nella storia della Romania moderna pur apprezzando la sua proposta Attenzione, volevamo essere ospitati un giorno Siamo spiacenti di informarle che non siamo in grado di accoglierla e purtroppo non possiamo inserirla nel nostro programma di promozione e valorizzazione della cultura rumena. Ringraziando della cortese disponibilità, apporgiamo distinti saluti. Cosa devo dire? Vergogna. Vi dovete vergognare. Siete solamente una vergogna. Ma questo va bene perché comunque l'Istituto Culturale Rumeno è vostro, lo gestite voi, poi con tutte le iniziative che avete fatto lasciamo perdere. Però mi avete detto nel 2017 ci vediamo forse nel 2020. Vergognatevi. Ruscire. Vergogna. Ma andiamo avanti. In marzo, in maggio, precisamente in maggio, si è tenuto a Roma un evento organizzato per il centenario. Un evento finanziato, attenzione, finanziato, dal Ministero dei Nomeni Pentrutinde. Il Ministro Intontero è prontamente venuto a Roma perché comunque in questo evento dove c'era la prima apertura a meno di 100 persone, il Ministro, giustamente, visto che ha finanziato questo progetto, era presente. Il pomeriggio di questa giornata in ambasciata si è tenuto un incontro con le associazioni rumene. Noi di Romi TV abbiamo, e già la mattina abbiamo mandato, attenzione, il Ministro era a conoscenza di tutto, quindi lei già era stata avvertita che Dacia TV era una televisione abusiva. Il Ministro non incurante, quando io ho fatto la domanda al Ministro, come fa lei, Ministro che rappresenta la Romania, come fa lei ad andare in una televisione abusiva, come fa a ospitarla nei palazzi del Governo? E lei mi ha risposto, io non sono tenuta a darle queste risposte. C'è la Corte dei Conti che controlla se Dacia TV è regolare o non regolare. Rusine, ruscine, solo vergogna. Il Ministro è andato via, ha detto che si sarebbe informata non so di che cosa, ed è sparita. È ritornata a Roma altre volte, con un'altra associazione di Roma, che guarda caso questa associazione di Roma, la scorsa settimana ha organizzato, ma ragazzi abbiamo le prove, abbiamo le documentazioni, la scorsa settimana questa associazione che si chiama CRIT.it, di cui il Presidente è un certo Gheorghe Crissescu di Roma, ha organizzato un evento in ambasciata, attenzione quindi in ambasciata, quindi passiamo adesso nell'istituzione vera e propria, e ha organizzato un evento in ambasciata di Romania, lo scorso giovedì, il Presidente 26 luglio, ha organizzato un evento in ambasciata, un evento top secret, ma il bello è che questo signore, prima di fare questo evento, ha mandato, e ne abbiamo la prova, ha mandato un sms a una sua amica, a un suo amico adesso non so chi sia, dicendo adesso abbiamo l'ambasciata. Complimenti, quando un rumeno che ha un'associazione dove c'è lui, la moglie e la figlia, ti dicono che abbiamo l'ambasciata, io devo veramente dire benvenuto al nuovo ambasciatore. Chiudiamo questo discorso, la sera si è tenuto questo evento in ambasciata, io come giornalista, perché purtroppo sono veramente giornalista, abbiamo mandato un piccolo messaggio al responsabile dell'ufficio stampa dell'ambasciata, dicendo, caro ufficio stampa, cosa c'è stasera di tanto interessante in ambasciata, in ambasciata, attenzione, visto che stiamo vedendo delle dirette Facebook di alcuni invitati, nel momento in cui ho fatto questa domanda, la persona che stava riprendendo col telefonino all'interno dell'evento è stata immediatamente redacurita e gli è stato spento il telefonino. Allora io vorrei dire anche all'ambasciata, se facevate una cosa nella regolarità, quindi non c'era nulla da nascondere, la signora avrebbe potuto tranquillamente continuare a fare le riprese, farsi i selfie in come ormai si fa di moda e non ci sarebbe stato nulla di male. Invece è stato subito, immediatamente bloccato questa cosa e dopo due giorni, dopo l'insistenza richiesta, viene fatto un comunicato stampa, attenzione, solo in lingua italiana, dicendo che nel quadro delle iniziative del centenario l'ambasciata in collaborazione con non si sa chi aveva organizzato una serata pubblica all'interno dell'ambasciata. Ah, quando si organizza un evento pubblico, caro ufficio stampa, cara organizzazione o chi esso sia, il comunicato si fa prima, non si fa dopo, perché quando una persona vuole invitare qualcuno a una festa, la invita prima, non la invita dopo. E questo è un'altra parentesi che ho voluto aprire, perché questa festa è costata 42 mila lei, 42 mila lei che potete tranquillamente andare a trovare sul sito del Ministero dei rumeni pentrutindi, quindi www.mrp.gov, andate in progetti approvati e troverete che a maggio sono stati stanziati 42 mila lei per serate de centenar, serate de centenar, con micce e bere all'interno dell'ambasciata. Ma torna a dire, l'ambasciata è un'istituzione pubblica, governativa, io non metto bocca e non entrerò mai più in ambasciata, ci sono entrato due volte e almeno finché ci sarà questa compagine non ci andrò più. Però adesso veniamo al vero e proprio, a quello che ha scaturito poi ieri la bomba, come si suol dire. Abbiamo presentato un progetto e io ce ne avevo parlato anche in televisione, avevamo presentato un progetto perché a settembre e vi voglio far vedere adesso se la regia mi permette di inquadrare, a settembre praticamente noi abbiamo organizzato, come vedete vi facciamo vedere, il 18 settembre a Roma, abbiamo organizzato con la regione Lazio, quindi con la regione Lazio e non con i mici e bere, con la regione Lazio abbiamo organizzato un evento che si chiama 1918-2018, 100 anni, la Romania si racconta. Bene, questo evento, dico la sincera verità, era, no era, è un evento a cui noi teniamo tanto e sono più di un anno che stiamo lavorando su questo progetto perché volevamo portare la Romania anche a casa degli italiani, quindi volevamo organizzare in collaborazione quindi con la diaspora perché voglio ricordare che all'interno di questa mostra ci sono le eccellenze della diaspora nel mondo e volevamo organizzare un evento che potesse un po' coinvolgere, perché effettivamente è una festa, coinvolgere un po' tutti. Qualcuno mi ha chiesto quanto costa l'evento, l'evento costa più di 30 mila euro perché comunque solamente il museo, attenzione, il museo, museo, il museo che ci ospita, costa svariati migliaia di euro, ma attenzione, visto che qualcuno dice che le istituzioni italiane sono razziste e penso che più che le istituzioni italiane le istituzioni rumene sono razziste, la Regione Lazio, alla presentazione del progetto, ci ha immediatamente dato la sua disponibilità e ci ha aiutato in maniera veramente pesante e aiutandoci, facendoci un grandissimo sconto sull'affitto di questo museo che costa oltre 30 mila euro. Quindi la Regione Lazio, come vedete, poi è appunto sponsor dell'iniziativa, ha detto l'idea ci piace, Emanuele vai avanti. Finito questa gratificazione da parte dello Stato italiano, da un'istituzione italiana, diciamo che mi aspettavo forse dall'istituzione rumene qualcosa di più. Attenzione, non stiamo parlando di soldi in questa fase. Io ho convocato, contattato l'ambasciata, ho chiesto più volte un incontro, mi è stato anche dato e ho incontrato un responsabile dell'ambasciata che stimo moltissimo e purtroppo è una persona che non so perché viene tenuto dietro le quinte, il professor Pineta, il quale mi ha chiesto un po' di quello che stavo facendo e mi ha fatto le congratulazioni di questo progetto e io ho detto ambasciata, io non ho bisogno di soldi perché possiamo andare avanti con gli sponsor. Mi dovete dare l'assistenza tecnica. Questa assistenza tecnica non è mai arrivata. È arrivata una telefonata alla regione da parte di un dirigente dell'ambasciata per sapere come aveva avuto la sala e quanto era costata la sala. Invece di aiutarmi, invece di aiutarmi, ero andati a intrufolarsi per sapere come avevo fatto io ad avere questa sala. alla fine di tutto quanto ho chiesto più volte all'ambasciata di venire qualcuno a fare un sopralluogo con me. È venuta la responsabile dell'ufficio stampa, effettivamente è venuta lei, però effettivamente mi ha anche detto che non era poi lei la persona che poteva comunque dire ti aiuto o non ti aiuto. levato questo circa 15 giorni fa sempre all'ambasciata ho chiesto visto che all'interno di questa mostra avrei voluto dedicare una parte anche al turismo al turismo rumeno avevo chiesto la possibilità di mettermi in contatto con o l'istituto turistico rumeno o con il ministero del turismo per avere attenzione non stiamo parlando di soldi ripeto non stiamo parlando di bani di avere materiale da poter portare all'interno della mostra materiale intendo non i cappellini e le borse che furono fatti tre anni fa e sono ancora dormiente in un magazzino di un esponente politico qui a Roma avevo chiesto dei cataloghi pubblicitari che generalmente il ministero produce per le feste per le sagre per tutto quello che sia l'ambasciata molto prontamente mi ha risposto dicendo signor Latagliata come ben lei saprà dal 2017 non esiste più l'istituto e l'ufficio turistico rumeno in Italia se voi pensate che un'ambasciata mi debba dare una risposta del genere visto che sto organizzando un evento e non sto chiedendo soldi quantomeno avrebbero potuto alzare il telefono chiamare in Romania e dire c'è un cretino in Italia che vuole fare una festa una festa una mostra in un museo attenzione non miccebere una mostra in un museo e ha bisogno di materiale opuscoli un roll up insomma per poter permettere di dare valore anche al turismo rumeno e anche qui lettera morta torniamo adesso un po' a quello che è avvenuto ieri quindi noi abbiamo presentato il 3 di luglio abbiamo presentato un progetto al ministero al ministero rumeni pentru tinde perché tante persone giustamente anche persone che fanno trasmissioni qua in televisione ha detto Manuele perché non presenti un progetto tu ti potrai arrabbiare il momento in cui tu presenti un progetto e ti viene bocciato ma tu ad oggi non puoi insultare o accusare il ministero di dare soldi a chi vuole lei se tu non hai ancora ad oggi presentato un progetto e qui siamo scivolati sulla banana perché ieri mattina è uscito l'elenco di chi ha avuto i benefici dell'ultimo diciamo del mese di luglio e abbiamo visto con grande suppore che abbiamo preso un misero 46 e 8 e sono stati finanziati torna a dire massimo rispetto perché non conosco le associazioni che sono state finanziate ma comunque sono stati finanziati i quattro progetti e la cosa più schifosa se così vogliamo dire è che io ho contattato qualcuno del ministero dicendomi che la mia cartellina il mio dossier non era stato neanche aperto Ministro cosa le posso dire si vergogni io mi dimetterei oggi io mi dimetterei oggi visto che lei parla italiano e questa è già la seconda volta che noi le sollecitiamo lei è stata già ministro un'altra volta e andò via adesso pensavamo che forse si fosse maturata e avesse un minimo diciamo di domestichezza e sapesse che la diaspora non è un centro vacanze dove si va a vedere e non voglia andare oltre dove vengono spesi i soldi che lei finanzia sappiamo solamente che ogni volta che c'è un evento e viene finanziato lei il giorno dopo viene qui a Roma quindi torno a dire io non accuso nessuno ma comunque spererei che la DNA andasse a controllare effettivamente poi questi soldi come ritorno indietro perché a questo punto devo pensare che le associazioni che possono essere aiutate sono quelle che noi chiamiamo lavatrici delle belle strutture che vi permettono di poter ritornare indietro questi soldi a chi di dovere ieri in segno di protesta Romi TV ha voluto sospendere trasmissioni per 24 ore quindi oggi dopo questa conferenza ritorneranno le normali trasmissioni di Realitatea ma torneranno solamente per un motivo perché ieri sera tante persone hanno chiamato tante persone hanno scritto alcuni deputati e senatori mi hanno dato solidarietà perché vorrei ricordare al signore che ha preso 42 mila lei lui la moglie e la figlia che Romi TV ha oltre 300 iscritti Romi TV ha già cambiato due volte il comitato direttivo quindi comunque non siamo moglie marito e figlia ma siamo una struttura forse un po' più seria abbiamo un conto in banca regolare che abbiamo anche mandato al ministero con un estratto conto quindi penso che forse potremo ad oggi possiamo essere forse gli unici che possono parlare concludo dicendo che questa mattina ho letto su internet qualcuno mi ha detto non ti arrabbiare ma effettivamente qualcuno ha scritto su internet Romi TV spenge perché non gli danno più i soldi del governo io vorrei dire a questo signore che si chiama Crotoio Cretoio non so che sia che comunque fa parte dell'alleanza Romenilor quindi fa parte dell'altro gruppo Nizza e Company che hanno sempre boicottato questa televisione i quali dicono che non sono stati mai invitati ma sono stati invitati tantissime volte abbiamo fatto vedere anche le mail ma loro sono anche loro sono dei presuntuosi anche loro pensano solo alle cose loro e quando loro mi parlano di collaborare dicono che si vuole spaccare la comunità loro a mio avviso possono avere il premio di eccellenza ce lo possono avere loro comunque levato questo discorso perché comunque dimostra che quando anche sulla loro pagina arrivano massimo a 15 mi piace e si vede che sono sempre loro dimostra che non hanno poi un grosso seguito io voglio ringraziare tutte le persone che ieri sera e oggi mi hanno mandato dei messaggi di solidarietà hanno detto non dovete chiudere c'è una scadenza importante il 10 di agosto vi vogliono mettere il bavaglio vi prego non vi fermate infatti noi non ci fermiamo perché Romi TV ha campato fino ad oggi senza i soldi del governo rumeno e continueremo ad andare avanti senza i soldi del governo rumeno però attenzione io vorrei ricordare al ministro che questa volta l'ha fatta veramente sporca l'ha fatta veramente sporca perché se lei pensava che bocciandoci un progetto che non c'entra niente con la televisione fosse un atto intimidatorio vorrei dirle che non ci interessa niente noi l'evento lo faremo ugualmente lo faremo molto più bello di quello che abbiamo presentato lo faremo con i nostri soldi perché noi soldi noi ce li andiamo a guadagnare caro ministro quindi noi i soldi li andiamo a guadagnare non è che diamo i bandi a chi ci pare a noi quindi noi l'evento lo faremo ma sarà un evento dove le istituzioni rumene non saranno gradite quindi l'invito è aperto a tutti a tutti i rumeni del mondo a tutti i rumeni che vivono in Italia a tutte le persone che ci daranno una mano ma le istituzioni rumene non le vogliamo perché siete solamente dei parassiti io non so come si dice rumeno però siete solamente dei parassiti finché ci sarete voi e spero a questo punto io ripeto non sono di nessun partito non mi sono mai schierato anche la scorsa settimana abbiamo invitato il PSD che ci ha snobbato abbiamo invitato l'Alde il quale rappresentante in Italia vorrei ricordare ha preso tre voti cioè il rappresentante locale in Italia dell'Ader ha preso tre voti in Italia tre voti al comune di Fiumicino un certo Florin Tataro e lui si presenta come rappresentante della diaspora io vorrei ricordare a tutti questi presidenti che si insigni del titolo di rappresentanti della diaspora che la diaspora non ha bisogno di essere rappresentata da voi perché la diaspora si sa rappresentare tranquillamente da sola perché l'abbadante che lavora il muratore che lavora la signora che fa le pulizie a casa il meccanico che lavora non ha bisogno di voi perché il tempo che lui passa a lavorare non può permettersi di sentire tutte le vostre cazzate perché si parla di cazzate voi dalla mattina alla sera propagandate solamente festicciole incontri selfie Tataru hai preso tre voti a Fiumicino neanche mio nipote nella scuola mio nipote va alle scuole elementari neanche mio nipote quando si è candidato come rappresentante di classe ha preso tre voti Tataru io dopo che tu hai preso tre voti ma io mi sarei sotterrato vivo e continui a fare lo showman lasciamo perdere io vorrei chiudere questa trasmissione perché forse mi sono dilungato troppo ricordando brevemente che quindi Romi TV continua ad andare avanti perché non ha mai detto che si sarebbe fermata la nostra è stata una protesta continueremo la protesta perché non pensate che noi ci fermiamo qua continueremo a controllarvi continueremo a vedere tutte le vergogne che fate e io torno a dire vista la grande presunzione dell'ambasciata che non si è permessa in questi due giorni neanche di chiamare per dire ma cosa sta succedendo vorrei ricordare che comunque questa volta come si dice da noi in Italia avete fatto la pipì fuori dal vasetto perché io devo dire la verità ho apprezzato molto l'evento che avete fatto per il centenario in Accademia dove avete presentato le dieci eccellenze dei rumeni in Italia e ho apprezzato molto anche le scelte che avete fatto perché effettivamente le dieci persone che avete scelto erano sono dieci persone veramente di eccellenza però come si dice sempre siete scivolati sulla buccia di banana perché poi venerdì vi siete uso un termine vi siete venduti per 42 mila lei per un evento organizzato dalla crit.it lo possiamo dire andate a vederlo su internet io vi prego quando parlo andate poi a documentarvi anche voi 42 mila euro per fare una festa privata so che c'erano delle ottime sarmale perché so chi le ha cucinate quindi almeno le sarmale erano buone e c'erano sempre i soliti i 4-5 del fori e niente questa è la situazione concludo ricordandovi anche un'altra cosa che forse vi avrò detto o non vi avrò detto sempre un esponente di questa simpatico organizzazione fori federazione degli organizzatori di eventi rumeni in Italia mi ha denunciato un anno fa per istigazione all'odio razziale ragazzi vi rendete conto io che sono dieci anni che lavoro in Romania io a questo punto lo dico io perché è vero io che comunque ho avuto l'onore per due anni di avere un encomio da parte del comune di Buzao avere un encomio da parte del comune di Calafat quindi quello che voglio dire io caro Omino ti ricordo che comunque sei stato rinviato a giudizio quindi comunque ci sarà un regolare processo e poi vedremo come andrà a finire questa storia perché come abbiamo denunciato e lo posso tranquillamente dire come ho denunciato il signore Ucente Ertelac il quale ha detto pubblicamente che io gli avrei storto dei soldi il signore Ucente Ertelac avrà un regolare processo in Italia penale penale di cui dovrà rispondere di tutte le accuse che mi ha fatto nella sua televisione pirata di cui era ospite anche il ministro il tontero e i suoi segretari che vengono spesso a Roma anche giovedì venite sono venuti a Roma a fare shopping con i soldi del DRP io vi lascio ridò un'altra volta la linea realitatea il 10 agosto saremo in collegamento diretto con Bucarest faremo uno speciale anche qui da Roma perché comunque Romit con noi esce a casa e noi non andiamo in vacanza quindi saremo qua cercheremo di avere anche degli ospiti per commentare in diretta questa giornata che si terrà a Bucarest e vi voglio ricordare che non ci avete messo un tappo ci avete solamente fatto sorridere ma ricordatevi che volgarmente come si dice se oggi vi contavamo i peli al naso adesso vi contiamo anche quelli del culo buona giornata e buon proseguimento con Romi TV e con le nostre programmazioni viva l'Italia e soprattutto viva i rumeni e viva la Romania ma la Romania pulita quella che noi vogliamo vedere e vogliamo leggere sui giornali buona giornata grazie a tutti